Buongiorno a tutti, benvenuti a casa di Mau, qui a Londra, una bella domenica. Il taglio di calcio che va a vincere, speriamo. Allora ragazzi, qui facciamo una bella bolognese e prepariamo anche il caffè. Grazie a tutti. Sperzzettiamo bene la carne macinata, che non si formino dei grumi, mi raccomando. Ragazzi, we're gonna make bolognese sauce here, for the kids. We're gonna make some pork, we'll take several hours. Ragazzi, in forno ho messo del maiale, lo lascio lì per 4-5 ore, possibilmente 5, poco molto lento. Ragazzi, qui facciamo osservire l'acqua per la nostra carne macinata. Allora, ii siamo spostate la camera, in qualche modo, spostate la camera, ci lo facciamo in caffè. Grazie. 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 La classica mokka, ecco qua. La carne deve rotolare per bene. Ed eliminiamo i grumi. Qua. 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 Con molta semplicità andiamo avanti. Allora, adesso tagliuzzo un po' di sedano. Bella bolognese. Qua. 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 di tutto e spiegato d'aglio e lo tagliuziamo così rosola con la carne la carne si deve proprio colorare bene, sta andando a meraviglia la facciamo cuocere con molta molta calma anche qui il sugo deve cucinare minimo un'ora e mezza se avete il tempo ragazzi, altrimenti va bene lo stesso sale lo mettiamo solo alla fine ok, nel frattempo c'è un bel caffè, bello forte, è il mio terzo caffè adesso io qui ho i peperoncini ma vi riserviamo ad un'altra ricetta allora, io ho preso dei gamberi, adesso vi faccio vedere un'altra ricetta ecco qua, che pa! benvenuto amos, con queste gambe vi vediamo un po', non sono ancora convinto cosa farci però mettiamoli qui un attimino leviamoci il caffè e occhio alla nostra carne macinata questo è manzo poco condimento per i bimbi cioè proprio un pochino altrimenti non te la mangiano la voglia di dire quelli se la mettono in bocca e ti dicono no e ti dicono no ecco qua lasciamo rosolare bene c'è il pezzettino d'aglio e facciamo il caffè il caffè qui non si beve nelle tazzine ma si beve nelle tazzone bello forte ho preso la vazza oggi ecco, non esageriamo che fa male niente zucchero ci vuole anche lo zucchero perché ecco la carne sembrana un profumo molto gradevole ecco, io metto qui la piastra sto pensando un po' a come cucinare i miei gamberi spostiamo il calore logicamente per carità adesso la mia carne però già qui almeno 20 minuti è proprio sfaldata innanzitutto dai grumi mi raccomando l'aglio rosolato e possiamo tranquillamente mettere il pomodoro però senza stare lì a a complicarsi la vita ok 400 grammi 400 grammi di carne e 400 grammi di carne ok vogliono stagliussarti bene facciamo un capolavoro buongiorno 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 per passare a pesca oggi come è andata qualche calamaro ma i polpetti non li prendi ieri come forse sapete ho cucinato il polpo l'ho preso congelato il prezzo era 10 sterline il pacchetto risultava un chilo e mezzo congelato però una volta scongelato secondo me erano 500 grammi si prendono per i fondelli e questo è il mercato all'ingrosso però veniva dall'oceano atlantico non so da dove veniva di preciso c'era l'etichetta ma niente non era un gran che insomma l'abbiamo mangiato la moglie l'ha mangiato non ha detto niente sentiremo dopo i commenti cambiamo piastra mettiamola qua facciamo andare il pomodoro a fuoco molto ma molto lento quasi spento adesso qui mettiamo un'altra padella io ho preso dei gamberetti anche questi congelati già puliti li ho messi a scolare ma vi faccio vedere ecco qua sono 700 grammi facciamo un risotto va bene vediamo come va a finire ciao Allora, non dirichiamo il caffè, benvenuto Michele, caro Michele, allora anche oggi qui in cucina, abbiamo dei gamberi, Michele, li mettiamo adesso sulla piastra, dobbiamo piacere cosa da fare, quindi faccio riscaldare la padella per un risotto, ecco qua, una piastra, c'è un pezzettino di pane qua, allora, facciamo riscaldare la mia padella a fuoco basso senza far casino, qui mettiamo poco a poco olio, beviamoci il caffè, altrimenti qua, sei Michele, non vediamo, qui sto facendo una bella bolognese per i bambini, pian piano, diamo il tempo, diamo il tempo anche a berci il caffè, altrimenti qui, allora, qui sono i miei gamberi, ecco qua, la padella è quasi asciutta, ci aggiungiamo dell'olio. Adesso, cosa facciamo, ragazzi, ci serve del vino bianco, ma sto pensando a non mettermi, vediamo un po', il mio caffè è bello forte, pressato, non riempio mai la mia caffettiera fino alla valvola, è la regola, ma meno, così esce bello forte. Allora, mettiamo un po' di, prezziamo la risolata, un po' di, scusate, un po' di sedano, ok? Adesso io il sedano lo metto a pezzi grandi, perché così lo possiamo tirare via, perché i bimbi magari non te lo mangiano, ok? E di nuovo controlliamo la nostra salsa bolognese, che va la meraviglia. Inieziamo bene il pomodoro, i pelati, e come detto prima facciamo andare per un'ora e mezzo, a fuoco quasi spento, non c'è fretta, il sale lo aggiungiamo solo alla fine, c'è solo poco poco aglio e pochino di sedano. La carne è macinata, ha rosolato per bene, finché si, proprio, si colora, si colora un po'. Allora, io non so che fare, ci vuole il vino qua col pesce, giusto ragazzi? Allora, io un po', ecco, sta riscaldando la piastra, mi servono i miei attrezzi, sono stati spostati, ecco qui, facciamo colorare, rosolare un po' il sedano, semplice, semplice. Allora, faccio così ragazzi, devo prendere il riso, un pochetto di riso, facciamo giusto una porzioncina, scusate ma oggi va così, un pochetto di riso, con i gamberi. con i gamberi e le azughe salate, va bene? ci mettiamo una puntina, una puntina d'aglio, facciamo giusto una porzione piccola di riso, non è che siamo lì a tagliare, ecco, l'aglio così, poi lo spostiamo, facciamo prendere il sapore, un pochino d'olio d'oliva, ecco qua, basta così. a Greco Speriamo un pomodoro. dà il suo profumo, fate piano piano ragazzi mi raccomando, va a spostare un po', un piatto per le posate, per i miei attrezzi da lavoro, ok? Adesso verifichiamo quanto, ecco io più o meno una tazza di riso, siamo qui, ecco qua c'è un bicchierino di riso, quindi l'acqua deve essere almeno due volte, ok? Fiamma alta, mescolatina, ecco qua, è giusto un assaggino, adesso la mia piastra qua è calduccia, non è calda, è calduccia, e ci vado a posare i miei gamberi, faccio cuocere giusto un attimino, ecco qua, senza andare a strappare, va bene? Fiamma alta per il riso, non aggiungo ancora i gambi, aspetta un attimino, quando è metà cottura li aggiungiamo, mi pare anche rotolare prima, ma non fa niente, un po' il pomodoro qua, da meraviglia, un po' lento lento, efficcia. ecco, appena l'acqua inizi a bollire del riso, abbassiamo la piazza, vediamo un po' come va, ecco, appena la piazza, vediamo un po' come va, ecco, appena la piazza, vediamo un po' come va, ecco, appena lento, Grazie. Poi le fotografie, ragazzi, controlliamo il blocco, adesso abbassiamo la fiamma, facciamo andare pian piano, sto provando la fiammina qua, adesso c'è il profumo dei gamberi che c'è di su, io li faccio cuocere proprio un minutino. Ecco qua, sono proprio belli, soffri un minutino. Ecco qua. Allora. Allora. va bene adesso spengo pure la piastra buongiorno, buongiorno let's keep focusing on our risotto ok here is a bunch of coco a pinch of salt as well as a macchiom as well ok guys ok i'm gonna remove my prance now just to cook just for a minute yeah there's no need more ok put it there now i'm going to add my prance ok let's squeeze some lemon on the red prance ok right let's go back to the tomato sauce now keep checking guys keep checking never give up i remind you salt for my bolognese sauce only when the recipe says at the end at the end ok now a lovely prance here ok let them cook a couple of seconds no more i keep stirring your rice ok the grass is going nicely here there we go ok now i'm gonna cook some i put some water to boil coffee just glass glass ok good morning Lee nice to see you early i'm gonna have a risotto with celery anchovy and prance some lovely bolognese sauce for the kids with celery just a small piece of garlic prance and anchovy probably pasta we'll see ok i need to check this stuff here let's color it a bit i bought them in Billingsgate yesterday frozen prance already clean from india 8 pounds for that 700 grams not sure if they are good that's what they have said so let's go back to check the risotto for sufficient water in it i put a pinch of cold salt all right keep stirring the sauce let's cook for one hour and a half yeah here's plenty of time today's sunday i'm not rushing ok i'm not going to need them i'm not going to need them i'm not going to need them the Ok, i franzi sono pronti, i rilassati da pan. I just need to get a bit of color, nothing more. They cook very quickly. Ok ragazzi, i gambere ti cucciolo. Ci sono molto in fretta, quindi li togliamo, ecco qua. Facciamo a bollire l'acqua, colpo d'occhio avviso che non si asciughi più del dovuto. Allora, devo spostare però questo. Scusate, la mi chiamano. Grazie. Grazie. Allora ragazzi, occhio al risotto, ecco qua, sta asciugando bene, mettiamo un altro pochettino d'acqua, proprio poco a poco, ecco qua, e mescoliamo. Allora, vi dicevo in forno, ciao Riccardo, buongiorno, in forno abbiamo il maiale che vi faccio vedere, ecco qua, abbiamo involto per bene nella carta stagnola, c'è un bel pezzo di Cottenna dentro, nient'altro, ok, si deve cucinare 4-5 ore possibilmente, a fuoco molto a letto, io vi faccio una colazione di fava, un spuntino, abbassiamo la fiamma per il riso perché è troppo alta. Le mie fave ragazzi, bollite rosolate, rosolate non bollite, bolline, buono. Allora, qui occhio, ecco qua, il nostro risotto va avanti, ancora bisogno di un pochino di tempo per cuocere, aggiungiamo il sale e l'acqua per la pasta, ok, ecco qua, un pochino di più. Andiamo benissimo, occhio al pomodoro, ai bimbi, ecco come ho detto di cuocere, dopo io coprirò la pentola, a fuoco quasi spento per un'ora e mezzo, ok ragazzi, giusto per farlo vedere, e io adesso qui inizio aggiungere i miei gamberi, ok, li metto sopra, il risotto e i gamberi e al sedano, ecco qua, siamo a posto. Adesso dobbiamo preparare la salsetta per i nostri spaghetti, spaghetti o cosa facciamo? Facciamo due spaghetti, dai, spaghetti alle acciughe e gamberi. Fattemi dare una giratina qui, il mio risotto, aggiungerò un altro goccino d'acqua, così è bello cremoso, è veramente bello, poco 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 acqua, poco poco, e continuiamo a mescolare, secondo me è uno spettacolo, ve lo faccio vedere anche da vicino adesso. Buongiorno Ricci, Ricola d'Or, del Palermo, grande Ilario, numero uno, devi allenare adesso, Ricà, adesso è un po' più grandetto, devi allenare, resta nel calcio, fai corsa a coverciano anche tu, probabilmente l'hai già fatto, grande calciatore Ilario, grande calciatore, centrocampista numero uno, avuto successo in tutta Italia. Allora, aggiungiamo l'olio d'oliva, con la mia padellina, e due belli spaghetti, ci facciamo di rosolare un po' d'aglio, poco poco, ecco qua, grazie e complimenti ma non c'è niente di difficile qui ragazzi, è giusto un passatempo, ecco qua, facciamo rosolare l'aglio pian piano, non bruciate l'aglio per carità, un po' colento, allora, i gamberi li ho già fatti, li ho messi sulla piastra di ferro, e poi li ho dato una spruzzatina di limone, va bene, e un goccino d'olio, adesso l'acqua mi bolle, e prepariamo gli spaghetti, adesso logicamente, come detto altre volte, usate una pentola molto grande, non fate come a me, anche con spaghetti italiani, una mancia, un pochino, saranno 130 grammi, abbiamo qua l'acqua bolle, ecco qui, adesso l'aglio si inizia a rosolare pian piano, diamogli il tempo, occhio al risotto, che sta finendo la cottura, anche qui la fiamma molto, molto bassa, faccio un capolavoro, ecco qui, ripeto, la carne macinata col pomodoro e il sedano, non mettete il sale, ma neanche scherzando, solo alla fine, quando la ricetta è completa, ok, un po' coprite logicamente che è meglio, allora, po' qui, apriamo la nostra sardina e le nostre acciughe, e le facciamo praticamente sbagliate, bene, un po' copti, molto basso, mi raccomando, ecco, bene, un po' copo, allora ci mettiamo due peperoncini ragazzi non dimentichiamoci il mio tocco a me piace così ne mettiamo due anzi io ne metto tre peperoncini togliamo la parte sopra non vi ricordo che si dice in italiano ecco qui li laviamo e li spezzettiamo ok ecco facciamo colorare bene l'aglio e poi scendiamo il tutto il riso è quasi pronto lo dobbiamo assaggiare un attimino bello cremoso adesso spengo il gas e la cottura finisce da sola perché la pentola è caldo ecco qui assicuriamoci che la pasta è coperta dall'acqua bene ragazzi cosa ne pensate grazie ai complimenti riccardo ecco qua il mio l'aglio e le acciughe stanno sciogliendo l'aglio sta colorando per bene e io fra un attimino spengo il gas adesso ci rimetto i miei gamberi ecco qua prendiamo la camera e facciamo altre fotografie un paio di gamberi rossi con le acciughe ecco qui che l'acqua non debordi facciamo cuocere proprio al dente e poi ecco qua ancora un attimino via di macchina fotografica qua passiamo a fiamma via di macchina fotografica qua Raga, ditemi quello che volete Avere pazienza con la camera non è facile Raga, a dare i tempi Allora, il risotto praticamente è pronto Ok, l'ho fatto bello cremoso, non asciutto Controlliamo il nostro pomodoro Non dovrei mischiare gli attrezzi però Allora, eccoci qua Adesso dobbiamo farci un po' di spazio C'è una pentola un po' più grande Ecco qui Controlliamo i nostri spaghetti A che punto di cottura sono Ancora un attimino ragazzi Ancora un attimino Adesso provisciamo la nostra salsetta qua Aspettiamo che la pasta continui a cuocere un attimino Ancora un attimino Ancora un attimino Ancora un attimino Ecco qua Ecco qua La pasta è pronta Adesso andiamo a mischiare con i gamberi Scusate Fiamma alta E travasiamo la pasta Ancora un attimino Ancora un attimino E la pasta 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 un attimino Per 1-2 minuti Sì. 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 Ok, metteremo un po' di minuti. Ora proviamo a provare il risotto. Ora prendiamo il vino con una glass of wine, non lo vedete? Ci vuole un bicchiere di vino? Andiamo a prendere il vino. Ecco qua ragazzi, il prodotto di Sardegna, lo apriamo qua, un buon vino. Ecco qua, i miei spaghetti vanno ad ultimare la cottura, anche i gamberi non li avevo cotti completamente, quindi si vanno a insaporare lì. Facciamo il nostro giochetto qua, a prendere il rubinetto. Questa è la mia, questa è la mia, questa è la mia, questa è la mia. Questa è la mia, questa è la mia, questa è la mia, questa è la mia. Questa è la mia, questa è la mia. Grazie. Eccoci qua, il vinello, ragazzi. Occhio alla pasta, non dobbiamo rovinare niente. Ecco qua, aggiungiamo. Ancora un attimino, aggiungiamo un altro po' di acqua in cottura, poco poco. Assaggiamo il vinello. Ragazzi, prodotti di Sardegna, ma fanbrindisi a un buon Cagliari oggi, che faccio un figurone. Non dico altro per scaramanzia, il vino è molto buono. E finiamo qua. Allora, assaggiamo, dobbiamo assaggiare, verificare con gli amici che il piatto è buono, più che altro. Assaggiamo il risotto. Ecco qua, una puntina. Ok. Vediamo un po'. Ragazzi. Il risotto, con i gamberi e il sedano, è un goccino d'aria, un pezzettino d'aria. Andiamo a vedere. Finiamo gli spaghetti qua, un attimino. un altro goccino di acqua di cottura. Ecco qua. Si amalgama il tutto. C'è un profumino veramente bello. Allora, fatevi fare un'altra foto. Scusate. Oh, scusate. Le mani. Le mani. Le mani. Le mani. Le mani. Seguiamo. Giusto. Assaggiamo il risotto, ragazzi. Andiamo. Assaggiamo il risotto. Andiamo un po'. Ragazzi, non è buono. Sicuramente è buono. Ok? Spegniamo adesso il fuoco della pasta. E aggiungiamo ancora un attimino di acqua di cottura. Basta. Vivo. C'è il prezzemmo, ci sono i gamberi, c'è tutto. Ok? Lascio riposare. Finisco il risotto. Assaggiamo il sedano. Rimuoviamo l'aglio, eh. Che vi devo dire? È una bella domenica. A Londra c'è il sole. Siamo già usciti, mi ha fatto una bella passeggiata. Ho fatto delle foto, ho preso il sole. Così. Iniziare la giornata come piace a me. Ci siamo sdocciati, abbiamo sbrazzato la cucina, piatti, questo e quell'altro, buttata di mondezza e via dicendo. Ciao Fabrizio, benvenuto. Un bicchiere di vino, anche se mattina presto, non ce ne frega niente, a Londra c'è cittadini liberi. Un bicchiere. Senza fare gli stupi. C'è gente che manda messaggi strani, ma sono cavoli di loro. Ecco qua, gli spaghetti sono pronti. La fiamma è spenta, non c'è più fuoco. Da quella parte il ragù dei bimbi continua a cucinare e adesso, ecco qua, ci metto il coperchio. Perché visto, l'avete visto, la fiamma è quasi spenta. Ok? Fatela andare ancora più un po'. Finiamoci il risotto, è veramente buono. Il sedano non deve essere mai stracotto. Mai, deve tenere quel sapore vivo, verde, se lo bollite non va bene. Ecco qua, gli spaghetti sono perfetti, si stanno asciugando un po'. Sono al dente, ma se non li mangiamo diventano colla. Giusto, ragazzi? Si gonfia. Allora, via. Poco poco riso. Di buon mattino. Abbiamo detto il caffè. Ci sindonella. Gino e f candidates. Allora ragazzi, adesso assaggiamo il nostro spaghetto, ecco qua, ci sta veramente bello, pronta, pronta, l'acqua non ci serve più, la possiamo spostare, queste posate hanno fatto il loro dovere, le spostiamo, ok, allora, vediamo un po' ancora un attimino, passiamo all'assaggio dei gamberoni, dei gamberini, ok, 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 ok. Eccoci qua ragazzi, andiamo ad assaggiare gli spaghetti, vi ho messo tre peperoncini freschi, ricordate, vi ho messo il prezzemolo, un pochettino d'aglio, una scatolina di acciughe e la ciccia dovrebbe essere pronta adesso, assaggiamola, scusa devo sbarazzare un attimino di nuovo, così teniamo il posto pulito, e assaggiamoci i nostri spaghetti, un piattino, la pizza, un paio di gamberi, e lì, un pochettino, un pochettino, un pochettino, un pochettino, ok, spaghettini ragazzi, eccoci qua, assaggiamo un po' l'anello, ok, spostiamo un po' la camera, perché si inizia a svegliare la famigliore, così, ecco, devo fare un giochino, che devo dire, ecco qua gli spaghetti, non so cosa riuscite a vedere, va, salutone qui, alla prossima, ciao! Ciao!